Salve a tutti, non mi ammazzati e non mi ammazzate, bentornate sul mio canale. Oggi, come potete intuire dal mio cappello, parliamo di Detective Pikachu. No, però, cavoli, potevo parlare di Detective Pikachu con questo cappello. Invece no, parliamo di cena con delitto, sempre, mi scuso, con immenso ritardo dall'uscita del film, ma ho voluto un attimino ponderare... no, non è vero, non ho avuto tempo. Cosa vi posso dire di questo film che non avete già sentito in mille altre recensioni? Vi posso dire il mio impatto, il motivo per cui questo film mi ha spinto ad andare al cinema a vederlo? Lo tolgo perché fa un caldo bestia. Perché innanzitutto è un film corale con degli attori che ero davvero curioso di vedere insieme e in una veste diversa. In primis, non lo nego, volevo vedere Chris Evans spogliato delle vesti di Captain America e reinserito di nuovo nel suo personaggio più classico, che è un po' lo stronzetto figlio di papà. Lo abbiamo visto anche in Scott Pilgrim, ma anche per esempio in Fantastici Quattro era uno stronzetto figlio di papà volendo vedere, che poi cresce perché diventa un supereroe. Però diciamo, è il suo personaggio che si è sempre cucito addosso, che aveva abbandonato per i panni del serio Capitano America. Poi c'era per esempio Daniel Craig, storico James Bond, Jamie Lee Curtis, che io ricorderò sempre in Una Poltrona per Due quando è in Topless. Poi c'è il bambino di It, adesso che non mi viene in mente il nome, volevo vedere cosa ci facevano tutti questi attori tutti assieme in un film. Anche temendo, a mio rischio e pericolo sono andato al cinema, temendo che fosse come Assassino sull'Oriente Express, che è un film di qualche anno fa, che pensavo fosse molto interessante perché era proprio tratto dal romanzo di Agatha Christie, e speravo lo avessero reso un attimino brillante e invece era di una noia mortale. Quindi sono andato anche temendo di incappare in un ennesimo film giallo, che non è il mio genere, che fosse di una noia mortale. Invece, fortunatamente, il mio istinto ha avuto ragione, perché è un film davvero brillante, che comunque ti coinvolge, ti tiene, non dico col fiato sospeso, perché non è un giallo serio, troppo serio, non è un thriller, è un giallo che però sa essere anche commedia. Non c'è una suspense che ti fa pensare fino all'ultimo secondo chi potrebbe mai essere l'assassino. Diciamo che l'assassino lo fanno nemmeno intuire, quasi lo dicono chi è fin dai primi tre quarti d'ora, però poi da lì, ciò nonostante, c'è una storia che si evolve. E questo mi è piaciuto molto perché non è il classico giallo, il classico giallo dove l'ispettore di turno deve indagare su chi è l'assassino. Qui c'è un punto di vista totalmente rovesciato, dove l'ispettore è quasi un personaggio, seppur interessante, però di contorno, e noi vediamo, diciamo, la storia dal punto di vista di questa domestica, diciamo, della badante della persona che è stata uccisa, che è questo patriarca di questa famiglia, numerosa appunto, con molti fratelli, tra cui appunto Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon che è un altro fratello, poi c'è Toni Collette che diciamo è una nuora che è rimasta in famiglia e grazie a cavolo con tutti i soldi che ha questa famiglia, e poi vabbè, ovviamente con i rispettivi nipoti. C'è invece questa domestica, che è la persona che sta tutto il tempo più vicina al caro estinto, che è, allora, il personaggio è Maria Cabrera, l'attrice è Anna De Armas, che io non conoscevo, e sono felice di averla conosciuta perché è davvero bellissima, anche se in questo film, una cosa che mi è piaciuta è che nonostante se voi andate a cercare su internet una sua foto, o più di una sua foto, lei è una stragnocca, ma in questo film si, diciamo, non c'è importanza che sia bello o che sia brutta, e quindi si dà importanza, diciamo, alle sue doti di attrice, per quanto io possa aver percepito le sue doti di attrice attraverso il doppiaggio comunque, però devo dire che mi è piaciuta davvero tanto e spero di recuperare qualche altro suo film, che magari vi metto anche in descrizione, così anche voi recuperate qualche suo film. Il signore anziano, il vecchio che muore, il patriarca di questa famiglia molto ricca, che è ricco perché ha fatto una serie di romanzi gialli, per l'appunto, di successo, è Christopher Plummer. Io, onestamente, non avevo capito che fosse lui, pensavo che fosse un altro attore, pensavo che fosse Michael Caine, onestamente, e anche per l'idea di vedere Michael Caine con tutto questo cast sono andato al cinema, però vabbè, non era lui, ma non è importante quello, francamente. L'importante è che il film comunque mi ha dato un parere molto positivo. Tra l'altro, un'altra cosa che stupidamente ho fatto solo una volta che sono entrato in sala, è stato quello di vedere chi era regista, perché sono stato appunto incuriosito da un paio di inquadrature, un paio di scene, complice anche una soffitta, credo mansardata, non lo so, comunque, con una parete storta. Ci sono state un paio di zoomate, un paio di riprese un pochino storte, che si addicono appunto a un regista che vuole dare una firma a questo film, ho detto, ma chi è il regista? E ho scoperto che il regista è niente po' di meno che Rian Johnson. Di Rian Johnson io ho visto pochi film, e quei pochi film che ho visto non mi sono piaciuti. Mi riferisco a Looper, un film con Bruce Willis, che potete trovare su Netflix, che ha una trama anche abbastanza interessante, ma non so perché mi ha annoiato questo film. Un altro film che forse molti di voi conosceranno molto di più è Guerre Stellari, Star Wars, episodio 8, che a detta anche di chi ama la nuova trilogia di Star Wars è il capitolo peggiore. Io onestamente non mi intendo di Guerre Stellari, se avete notato dal fatto che non ho fatto recensioni dell'ultimo Guerre Stellari, quindi non alzo le mani. Però, obiettivamente, anch'io da incompetente di Guerre Stellari, quando ho guardato l'8, sì, non è che proprio sono saltato sulle poltrone, ma in generale, vabbè, io non essendo fan, non mi sento di dare un giudizio, un giudizio da... di una persona che ne sa, quantomeno. Devo dire che, quantomeno a mio giudizio personale, questo è il film di Rian Johnson migliore che abbia visto di questi tre. Poi non ce ne sono tanti altri oltre a questi tre, andate pure a vedere la sua filmografia, non ha fatto tantissimi film, ha fatto qualche episodio di Breaking Bad da regista. Comunque, diciamo, dei suoi film, gli altri non mi hanno lasciato molto, questo mi è piaciuto, mi è piaciuto molto, ci ha studiato un po' più di tempo rispetto al resto. Non so come continuare la recensione senza fare spoiler, perché comunque è un film fondamentalmente giallo, di conseguenza più di tanto non voglio dire in questa parte non spoiler, vi posso solo dire di andarlo a vedere al cinema, se non l'hanno tolto ancora dalle sale, o comunque di recuperarlo in DVD, che vi metterò il link in descrizione quando uscirà il DVD, o di recuperarlo sulle piattaforme streaming, se vi va di continuare a vedere questo video, inizia la parte spoiler tra qualche secondo. 3, 2, 1. Allora, di questo film mi è piaciuto molto, oddio, all'inizio il fatto che si scopra subito che l'assassino in realtà sia questa badante che però non l'ha veramente assassinato, ma ha fatto un errore nel dare le medicine, e dal momento che questo scrittore era così affezionato a questa badante che pur di non far sospettare di lei si è tagliato la gola da solo, tant'è che l'indagine si apre con i due poliziotti che dicono che è chiaramente un caso di suicidio, però c'è qualcosa che non va. Tutti dicono ma no, ma no, è un suicidio, di cosa state parlando? Eppure c'è questo ispettore che viene da fuori, che è Daniel Craig, che vuole riascoltare appunto tutta la famiglia per capire cos'è successo, e si scoprono cose interessanti, le cose che si scoprono entrando in una famiglia di questo tipo, cioè che ci sono un sacco di scheletri nell'armadio, un sacco di non detto, un sacco di accredine, di tensione tra i vari fratelli, i vari parenti, di invidie anche per il successo di un fratello piuttosto che di un altro, e si scopre appunto, si entra, ci si cala in questo mondo, in questa famiglia, e più ci si cala in questa famiglia, più si è felici che questa famiglia non abbia un soldo dell'eredità di questo signore, ma abbia tutto, ottenga tutta l'eredità a questa badante, che però è nella scomoda posizione che in quanto assassina, se venisse risolto il mistero del fatto che è stata lei a uccidere questo povero vecchio, non avrebbe l'eredità, ma lei chiaramente non è che gli interessa di non avere l'eredità, lei gli interessa di non andare in galera, e quindi cerca di seguire le istruzioni che questo vecchio gli ha dato prima di morire in quanto grande esperto di libri gialli, per non essere scoperta, e noi vediamo praticamente da, dopo il primo quarto di film, vediamo lei, questa bellissima badante, che fa di tutto per non essere scoperta da Daniel Craig, dall'investigatore, che generando anche qualche scena abbastanza comica, in un certo senso, e questo l'ho trovato molto bello, molto brillante, in un film che dovrebbe essere un giallo, tu dici, cavoli, ok, tutto bello, tutto brillante, però appunto, so già chi è l'assassino, cosa mai dovranno raccontarmi alla fine di diverso, e no, alla fine riescono comunque a farti, diciamo, non dico cadere dalla sedia, però, ti fanno, ti fanno dire, oh per bacco, ma guardate, siamo già nella parte spoiler, quindi lo posso dire, l'assassino, è niente po' po' di meno, che Chris Evans, che inizialmente sembra un semplice stronzetto figlio di papà, e quindi noi che abbiamo già visto tanti film, tanti libri gialli, o comunque in generale sappiamo come funziona la narrativa, diciamo, vabbè, è quello più stronzo, figurati se è davvero lui anche l'assassino, quando è pieno di persone per bene, ma male lingue, che si sparlano dietro, sarà stato uno di loro, poi ci dicono che è quella, l'abadante, quindi ah ok, è stata l'abadante, sembra che non ci sia scampo per il dubbio, e quindi ti soffermi su, ok è stata l'abadante, addirittura, lo stronzetto Chris Evans, pare che a un certo punto diventi quasi più buono degli altri, semplicemente in realtà era più vero degli altri, più schietto degli altri, più diretto degli altri, ma poi scopriamo di nuovo, quindi c'è un doppio plot twist, che lo era, perché segretamente stava macchinando perché andassero tutte le colpe, si assicurasse che andassero tutte le colpe a questa badante, e non a se stesso, che era poi in un certo senso il vero assassino, in quanto colui che ha scambiato le fiale dei farmaci, ha impedito che l'infermiera salvasse questo anziano signore, proprio perché gli aveva anche tolto, diciamo, la fiala di adrenalina, quindi aveva fatto in modo che venisse avvelenato con dosi eccessive di morfina da questa badante, e che non ci fosse nemmeno una fiala di adrenalina, che fa in un certo senso da antidoto, passatemi il termine, anche se chimicamente non è la cosa giusta, alla morfina, per poter salvare una persona in sovradosaggio da morfina, e quindi ha fatto in modo che questo anziano signore, che era il nonno di Chris Evans, morisse, perché? Perché inizialmente, perché lui aveva già scoperto che questo suo nonno aveva lasciato tutto in eredità a questa badante, e se lei fosse stata appunto accusata di omicidio, non avrebbe ottenuto l'eredità, e quindi l'eredità sarebbe tornata in mano a tutta la famiglia. Inizialmente è stato per questo, dopodiché quando c'è stato il fattaccio, che appunto il vecchio si è tagliato la gola per impedire che sembrasse un avvelenamento da parte della badante, ma un suicidio, allora Chris Evans si è adattato per fare in modo che sì, la badante ne uscisse vincitrice, per avere tutta l'eredità, in modo che poi con l'aiuto che gli aveva appena dato questo giovane rampollo, l'eredità si fosse divisa a metà tra lei e appunto questo Chris Evans, personaggio che si chiama Hugh Ramson nella film. E questo perché? Perché lui dei suoi parenti non gliene fregava niente, è sempre stato mal visto dai suoi parenti, e a sua volta odia i suoi parenti, quindi due piccioni con una fava avrebbe avuto molta più eredità per sé e non avrebbero avuto un soldo bucato i suoi parenti, quindi c'è tutto questo magheggio ad opera del nostro amatissimo Fu Capitano America che mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto tanto vedere questo cast corale, anche se appunto per esempio Gemili Curtis che fa una parte che io ho adorato, merito appunto anche della sua bravura, però una parte è un po' piccolina ma mi è piaciuta, un po' meno mi sono piaciuti gli altri fratelli ma appunto erano parti di contorno, non ho proprio capito l'esistenza di questo, della ragazzino di It dal momento che non ha fatto nulla, era proprio, era tapezzeria, ha detto solo una cosa che poteva dire un altro personaggio, tant'è che mi sono andato a vedere se questo film è ispirato a qualche libro di Agatha Christie, in realtà è stato proprio scritto anche da Rian Johnson e si è ispirato a un tipico racconto di Agatha Christie ma non è tratto da nulla, è stato scritto di sua mano, quindi ci sono molti personaggi che però fanno poco, per un'opera originale mi è sembrato quasi strano, quindi a parte questo ragazzino che non fa nulla, per il resto mi è piaciuto molto. Ultima chicca molto carina questa fantastica badante Maria Cabrera che quando dice una bugia vomita, letteralmente vomita e forse da lì potevo capire che non era tratto da un libro dell'ottocento di Agatha Christie perché il vomito è una cosa un po' volgare, tutt'oggi il vomito è una cosa un po' volgare, ovviamente non viene mostrato, viene mostrato solo nella scena finale che dato che siamo nella parte spoiler presumo abbiate visto, molto disgustosa ma azzeccata perché un personaggio così cattivo si merita anche questo, di conseguenza nello schifo di quello che può essere appunto un effluvio corporeo è stato anche divertente, quindi questa tattica del vomito verità è stato dosato con saggezza e mi è piaciuto molto. Bene, con questo è tutto, fatemi sapere se anche voi avete visto il film, fatemi sapere se a voi è piaciuto, se pensavate di andare a vedere altro, se siete rimasti delusi o se siete rimasti contenti scrivete nei commenti cosa ne pensate, oltre a scrivere nei commenti vi invito sempre a mettere un bel mi piace, a iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche e a condividere il video con tutte le persone che amano Jessica Fletcher. Noi come sempre con l'inchino e con l'imbuto ci salutiamo e arrivederci al prossimo video. Grazie a tutti.